Con un punteggio totale di 81,8 l'Università dell'Aquila è stata posizionata dalla Censis 15 su 17 Atenei statali di media dimensione. Il dato contenuto nel rapporto 2024 sulle università italiane viene fuori aggregando diversi indicatori. Univac si comporta molto bene per ciò che attiene a comunicazione e servizi digitali con un punteggio di 97, occupabilità 93 ed internazionalizzazione, il dato qui è pari ad 80. Per l'Ateneo Aquilano il quadro cambia nel momento in cui il Censis va a prendere in considerazione strutture, borse di studio e servizi. Univac in questo caso ottiene rispettivamente punteggi di 77, 74 e 70. Su queste tre situazioni in particolare è intervenuto il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, che ha voluto sottolineare come le voci e i parametri penalizzanti per l'Ateneo siano quelle che investono aspetti su cui la governance accademica ha poche possibilità di incidere in maniera diretta. Nel fare il punto della situazione il rettore di Univac ha ricordato, tra le altre cose, da un lato le difficoltà che nel recente passato ha incontrato l'ADSU, l'azienda per il diritto agli studi universitari, che ha in capo proprio la gestione dei servizi e l'erogazione delle borse di studio. E poi sulla fronte strutture il fatto che l'Università dell'Aquila, a 15 anni dal sesma, ancora non abbia visto riconsegnate diverse sue sedi. La conclusione del rettore dell'Università Aquilana, Alesse, è infine una considerazione metodologica. Il ranking census è solo in parte una valutazione della qualità scientifica e didattica e, spiega il rettore, la valutazione inerente all'Università dell'Aquila si discosta in maniera sensibile da quella ottenuta sia in altri report, che in altri ranking anche internazionali a cui il nostro Ateneo va a partecipare. È evidente, chiude Alesse riferendosi all'analisi della census, che qualcosa non funziona in questo modo di giudicare gli Atenei.